Sono passati sette anni dall'uscita di questa pietra miliare dell'hip hop italiano. Sto parlando di Crack Musica, album della Dark Polo Gang rilasciato il 10 marzo 2016. Più nello specifico il progetto di Tony F è Side e che piaccia o meno il suo drop ha rivoluzionato il modo di fare rap in Italia. Sono riusciti a portare l'immaginario trap americano rendendolo in un certo senso italiano. All'interno troviamo Cavallini con Sfere Basta che può considerarsi il manifesto del movimento del 2016. E' un peccato pensare quanto le cose siano cambiate in sette anni, ma progetti come questo hanno avuto un impatto incredibile sulla nuova generazione. E non è un caso che il 90% di chi fa rap adesso sia cresciuto ascoltando la trilogy.